Siamo di nuovo in corsa, quest'anno riprendiamo la quindicesima edizione del giro degli archi dopo 4 anni di sospensione, grazie anche alla Federazione Italiana di Atletica Leggera che ha voluto credere nelle nostre forze e nel nostro circuito su Conversano per portare qui a Conversano circa 30-35 squadre della FIDAL giovanile di tutta la provincia di Bari, metteremo la prova del nostro circuito con l'obiettivo di creare qualcosa di grosso per il futuro. Finalmente Sirio Art ha un operatore eccezionale, prima era un radio amatore, poi è passato a fare il DJ e ora è anche operatore televisivo, arrabbeufato che cristiano, bravo Sirio Art, bravo, bravo!